ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi parliamo di pacchi batterie celle 18 6 50 21 700 per come è letto in titolo e allora mi risponde a una domanda che qualcuno di voi qualche giorno fa mi ha scritto nei commenti qui youtube dove mi diceva bella domanda e allora intanto possiamo dire che 18 6 50 e 21 700 sono due tipologie di celle agli ioni di litio o anche lì fio 4 per anche se i fio 4 ragazzi ancora forse non ne hanno fatto come 21 700 ma comunque è il modello la grandezza 21 700 differenza dalla 18 650 perché più grande perciò ha più capacità una 18 650 buona non va oltre i 3.500 miliamp per ora e perché ovviamente lo spazio disponibile all'interno del contenitore è già tutto pieno invece 21 700 può anche arrivare a 5.000 miliamp per ora 5 am per ora perciò come vedi tra 3.500 e 5.000 c'è una gran bella differenza quali sono le 5.000 di 21 700 lito cala a buone 21 700 e c'è anche samsung per esempio la 50 e ma ci sono anche 21 700 da 4.000 da 4.500 in base poi al progetto in base poi a cosa deve andare a realizzare ovviamente ragazzi più sono grosse più costano però in proporzione è vero che oggi le 21 700 costino meno ma perché perché numero uno e 18 650 oggi sono le più sfruttate e più utilizzate e le più montate nel mondo sia in pacchi batterie per bici scooter monopattini trapani perché perché ragazzi sono più piccoline più piccoline ne mettono in serie un paio e ti fanno un pacco batterie compatto le 21 700 sono diciamo arrivare dopo perciò sono un po più nuove non ancora molto espanse conosciute perciò il prezzo è contenuto oltre che per il produttore conviene più produrre 21 700 meglio la differenza nella produzione come costo cioè siamo lì con lì per un produttore vedi anche tesla tesla perché passata dalla 18 650 alle 21 700 perché in proporzione fare una 18 650 gli costava di più che fare una 21 700 e fare una 21 700 vuol dire avere più capacità perciò mi conviene fare la 21 700 appunto anche per questo perché quasi con la stessa spesa io riesco ad avere più capacità di una cella e perciò mi conviene giustamente un'altra domanda conviene utilizzare celle 18 650 o 21 700 ragazzi sono entrambi celle buone ovviamente via dire 21 700 dire 18 650 dire solo il modello la dimensione ma poi dipende dal brand dipende dal modello dipende dalla corrente massima di scarica dipende dalla capacità dipende da tantissime cose la scelta di una cella cioè ci sono applicazioni dove va bene la 18 650 per esempio dove il pacco batterie è inserito dentro uno spazio molto piccolo è un pacco batterie con 21 700 forse non ti entra e lì sei obbligato a starci con le 18 650 però è anche vero che se deve creare un pacco batterie da zero e lo spazio permette forse è meglio puntare sulle 21 700 uno perché oggi costano un po meno anche se nel corso dei mesi ragazzi state nei certi veneto io garanzia che aumenteranno anche quelle sotto in descrizione vi lascio alcuni link di celle 21 700 che non sono malissimo sotto tutto in descrizione e in più se vuoi studiare questa bellissima tecnologia riparare costruire ricellare montare da zero pacchi batterie invito al mio corso webinar battery maker l'unico in italia e anche in europa grazie a tantissimi di voi che si stanno iscrivendo settimanalmente mensilmente oggi ragazzi il corso costa meno in descrizione trovi anche link a power wall maker che il secondo mio corso online dove potrai trovare tantissime informazioni studiare nel concreto questa bellissima tecnologia ragazzi oggi tutto funziona con batterie litio ricaricabili oggi è tutto ricaricabile dall'aspirapolvere alla bice elettrica tutto batteria dal monopattine elettrico anche all'auto ragazzi se uno si mette a studiare sul serio questo settore sappi che soldi ne potrai fare davvero davvero tanti oggi si ricercano ovunque batterie nuove e tutti vogliono potenziare i propri monopattini le proprie bici elettriche tutti vogliono fare più strada e l'unica soluzione per fare più strada è avere un pacco batterie nuovo ma chi è che lo costruisce questo pacco batterie oggi in italia una buona parte sono tutti i miei studenti tutti coloro che hanno studiato batteri maker tutti coloro che si sono messi in gioco davvero a capire una nuova tecnologia che porterà tantissime soddisfazioni perché ragazzi interessati a queste batterie sono tantissimi e davvero ti porteranno tanti tanti soldi niente ragazzi se il video ti è piaciuto lasciami un like mi raccomando iscriviti al canale ti ricordo anche telegram sotto in descrizione tutti i giorni grandissime offerte in più ti ricordo di lasciarmi un commento perché sono molto molto utili commenti ragazzi mi aiutano a fare crescere il canale youtube condividi ciao il prossimo video